buongiorno buongiorno c'è una bimba tutta sommersa guardami guarda cosa c'ho non vuoi fare un video ricordo di questa giornata dimmi un po cosa succede di speciale oggi è già passato ma oggi lo festeggiamo con tutti gli amici e si è emozionata allora ora ti riposi ancora vuoi rotolarti nel letto non dici niente dove ti fa dormire poi poi un pochino sognavo che poi dopo un po mi sono uscita ci dici io e tu con io e babbo e tu si accarrezzano perché anche la mamma che è quella che sta facendo il video e poi? hai fatto il pipì e sei tornata a letto bene io vado a fare colazione maritino ha detto alla pizza faccio vedere com'è lievitata benissimo sono la maga della pasta della pizza intanto io sono la maga dei quadrittini allora guardiamo cosa abbiamo preparato qui c'è la pizza che ha steso Riccardo e che ora devo condire poi la crostata che ho fatto ieri sera con la marmellata di fichi fatta da me anche quella questa è l'unica cosa che abbiamo comprato la schiacciatina rifiena con gli affettati poi qui ho fatto delle tipo tartine ora devo infornare con la pasta sfoglia e i vari gusti e qui c'è la salsa di pomodoro cioè il pomodoro per i crostini poi qualcosa ho fatto anche mia suocera oddio che condizioni allora è tutto pronto pizza pronta da infornare siamo riusciti a fare praticamente tutto vegetariano tranne la schiacciata schiacciata non la chiamiamo schiacciata comunque la pocaccia ripiena e però per il resto non ci dovrebbe essere carne quindi siamo stati bravissimi ora vi faccio vedere cosa ha preparato mia suocera e invece no non vi faccio vedere quello che ha preparato mia suocera perché non era pronta e io intanto sono venuta a prepararmi allora ho deciso di vestirmi così boh non so nemmeno se i colori stanno bene insieme comunque ho collana che ho comprato uh che specchio pulito che ho comprato quando sono andata a Castiglione della Pescaia con le mie sorelle e la Katia magliettina che ho preso a Corfu per il denubilato della mia sorella pantaloni che ho preso su Vinted e boh Birkenstock andrò con queste non lo so magari metto un altro paio di scarpe comunque cerco di stare comoda perché dovremmo giocare notate niente che non va a buon compie anno perché dopo aver attaccato tutto questa era in terra ottimo All I want and I pray, I believe in the better day I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Oh dear, hold on, don't comechio Come did it! Add to the blood Him Try going, opportunities Do you be the only one you have love It creates juice I'm gonna demonize Are you!! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.